È tornato ieri sera a Tolentino, a distanza di qualche mese, precisamente al ristorante chiaroscuro di Belforte del Chienti, il filosofo professore Diego Fusaro. Alla serata, promossa dalla Lega Tolentino, ha preso parte anche il professor Matteo Simonetti, ospite anni fa della Lega, storico saggista marchigiano, autore del libro Calergi, prossima scomparsa degli europei. Una serata interessante e visti i temi che sono stati affrontati sotto la guida di Roberto Scorcella. Una staffetta tra i due sui temi di grande attualità, come Europa e Piano Calergi, fino ad arrivare a parlare di famiglia moderna e della sua mercificazione, tema trattato nell'ultimo libro di Fusaro, dal titolo Il nuovo ordine erotico. Presenti alla serata anche due parlamentari della Lega, il senatore Giuliano Pazzaglini e l'onorevole Tullio Patassini.